ehi ciao come va sono felice di rivederti in questa serie di video dedicati alle programmazioni per principianti io sono Michele e nell'azione di oggi andiamo a implementare i concetti teorici visti nella lezione precedente sempre dedicati ai cicli metto il link qui sopra per andare a rivedere ricordo che per seguire passo passo quello che io faccio e dimostro sono necessari i prerequisiti sempre spiegati in un video di cui metto il link nella descrizione il codice che mostrerò è disponibile gratuitamente su vita e liberamente scaricabile in modo da poterlo studiare e in autonomia ma bando alle ciance entriamo subito nel computer e diamoci da fare in questa sezione andiamo a implementare il ciclo repeat cioè quello che esegue un blocco di codice finché una condizione è vera e viene eseguito almeno una volta ci diamo l'obiettivo di fare cosa questo tipo di programma allora se lo scriviamo qua ripeti scrivi hello world finché l'utente non digita q per uscire benissimo allora abbiamo il programma che vogliamo realizzare cosa facciamo allora console.writeline è quel blocco di codice hello world è quel blocco di codice che vogliamo continuare a ripetere quindi lo mettiamo all'interno del ciclo repeat per fare un ciclo repeat in c sharp seguiamo la sintassi do blocco di codice while condizione e questa è la struttura in cui ci dobbiamo inserire ci mettiamo al suo interno l'hello world che è l'istruzione che vogliamo che vogliamo ripetere poi giusto per chi resta scriviamo anche console.writeline premi un tasto per continuare digita q per uscire dal programma benissimo allora poi ci serve un un modo per leggere l'input dall'utente che ci metterà il suo tasto o la sua q per uscire quindi predisponiamo qua sopra una variabile che la chiamiamo input utente ok però dobbiamo dargli un tipo console.key.info questo qui è un tipo di variabile del c sharp che ci serve per raccogliere informazioni su quello che un utente preme sulla tastiera quindi il tasto eventuali modificatori quali shift ctrl alt e così via quindi qua sopra dichiariamo questa variabile quindi stiamo dicendo stiamo impostando questo programma affinché si riservi uno spazio in memoria per salvare l'input utente questo spazio di memoria affinché sia facile da ricordare per noi quindi questo spazio di referenziare lo chiamiamo input utente allora in input utente ci assegniamo nel vi ricordo che l'uguale significa assegnare quindi inserire un valore in una variabile che cosa? console.readkey questa è un'istruzione console.readkey è un'istruzione nel c sharp che ci permette di leggere un singolo tasto dalla tastiera e memorizzare il suo valore in una variabile la nostra condizione per continuare a stare nel ciclo quindi finché quella condizione è vera finché condizione sarà vera noi continuiamo a ripetere il blocco di codice cioè le righe dalla diciamo dalla 13 alla 17 per continuare input utente deve essere diverso da q ok quindi qui ci vuole punto key char benissimo quindi la il punto ci permette di entrare nelle proprietà di questa variabile perché questa qui non è una semplice variabile che contiene o un numero o una stringa ma tutta una serie di informazioni aggiuntive che si chiamano proprietà quindi all'interno della variabile input utente cerchiamo la sua proprietà è come dire di una persona guardiamo il colore degli occhi quindi in questa variabile input utente andiamo a vedere la sua proprietà key char il suo valore deve essere diverso da q finché l'utente continua a digitare qualcosa di diverso da q noi continuiamo a eseguire questo programma ok a questo punto siamo qui dentro facciamo .net run ops ci manca un punto in virgola qui rifacciamo .net run hello world premi un tasto per continuare digita q per uscire allora proviamo io metto s hello world vediamo un piccolo errore grafico dobbiamo mettere una capo perché sennò ci viene stampato l'hello world esattamente dopo la s però l'idea principale del programma sta in piedi proviamo con la q ecco il programma esce allora per sistemare questa questione dobbiamo fare semplicemente questa questione grafica un console right line ci scriviamo uno spazio vuoto così e dovremo sistemare facciamo un clear per pulire il terminale di nuovo .net run benissimo premo tasti a caso e ci siamo non c'è più il problema con la q io esco di nuovo clear per pulire per esercitarci con il ciclo while dobbiamo leggermente complicare le cose perché per il ciclo while dobbiamo avere un paio di caratteristiche allora la prima è che non sappiamo in anticipo quante volte dobbiamo iterare il blocco di codice ma dobbiamo anche aggiungere la condizione che non sappiamo se questo blocco di codice verrà eseguito perché il ciclo while ricordo ha la condizione di ingresso in testa quindi non è detto che le istruzioni che mettiamo all'interno del blocco di codice vengano eseguite perché viene fatto un controllo appunto in anticipo per capire se eseguirle o meno allora ci inventiamo un programma di questo tipo scriviamo hello world qui sul terminale finché il secondo dell'ora attuale non è un multiplo di 10 quindi avremo un programma che continua a scrivere hello world finché l'ora minuto secondo non ha nei secondi un valore multiplo di 10 allora facciamo così while iniziamo il nostro ciclo while facciamo qui condizione che poi andiamo a dettagliare e apro e chiudo il mio blocco di codice la condizione è che i secondi dell'ora attuale ok il ciclo deve andare avanti finché i secondi dell'ora attuale non sono un multiplo di 10 quindi date come facciamo a prendere l'ora attuale in C sharp scriviamo date time punto now vuol dire che stiamo andando a chiedere al sistema operativo di darci l'ora attuale del nostro computer dell'ora attuale e andiamo a prenderci la parte dei secondi e noi andiamo all'interno entriamo nel ciclo while e continuiamo a iterare finché i secondi ok non sono un multiplo di 10 e lo verifichiamo così ci andiamo a chiedere se i secondi modulo 10 quindi andiamo a dividere per 10 andiamo a considerare il resto ricordo che il percentuale è l'operatore modulo quindi il resto di una divisione finché il resto della divisione tra i secondi dell'ora attuale e 10 è un qualcosa di diverso da zero io entro nel ciclo e ripeto che cosa vado a ripetere? beh semplicemente console.rightline ho perso rightline e scriviamo hello world per rendere il programma un pochino più leggibile per capire un po' di più ciò che fa andiamo a mettere anche nel rightline datetime.now così ci mettiamo lo concateniamo con l'operatore più in termini in caso di stringhe come questo hello world è una stringa datetime.now ci andiamo a prendere la parte stringa e lo concateniamo con hello world e in questa maniera avremo la stampata a video dell'ora attuale e hello world così riusciamo a capire un po' di più che cosa sta facendo ora questo ciclo girerà velocissimo e vi faccio vedere quante scritture farà diciamo .net run e avremo tantissime scritture perché ovviamente il console rightline è un'istruzione molto veloce e verrà eseguita decine e decine di volte in un secondo e avremo una sbrodolata di questo tipo quindi il programma continuerà esatto si è fermato al trentanovesimo secondo perché poi il quarantesimo secondo è un multiplo di 10 e quindi il programma si ferma per renderlo un pochino meno verboso andiamo ad aggiungere una pausa per aggiungere una pausa andiamo a sospendere il programma diciamo per mezzo secondo e lo sospendiamo in questa maniera system.thread.threading.thread.slip e ci mettiamo in millisecondi scriviamo 500 millisecondi con l'istruzione di riga 14 questa qui stiamo andando a sospendere a mettere in slip il nostro programma per 500 millisecondi in maniera tale da avere meno scritture qui ed essere un pochino meno verbosi facciamo .net run di nuovo ok vediamo che cosa succede l'abbiamo fatto partire esattamente all'interno di un multiplo di 10 quando il programma è stato eseguito in riga 11 era esattamente al numero di 10 quindi abbiamo avuto la conferma che non siamo entrati all'interno del blocco di codice del ciclo while lo facciamo un attimo ripartire e dovremmo vedere una scritta eccolo qua 500 mille ok al sessantesimo secondo quindi al nuovo minuto il programma termina ok per il nostro ciclo for andiamo a implementare un programma di questo tipo scrivi hello world tante volte quante decide l'utente il ciclo for è perfetto per la casistica quando sappiamo esattamente il numero di volte in cui scrivere hello world e noi in questo caso lo sappiamo perché ce lo scrive l'utente quindi il ciclo for è perfetto abbiamo già in anticipo determinato il numero di volte in cui eseguire il nostro blocco di istruzioni quindi andiamo a fare andiamo a leggere a chiedere all'utente di inserire il numero di volte quindi console.write line ormai stiamo prendendo confidenza con questa istruzione e scriviamo dimmi il numero di volte in cui ripetere ops apice singolo hello world invece che dimmi scrivi ok qui chiudiamo la stringa punto e virgola benissimo andiamo a mettere una variabile di tipo intero numero di volte chiamiamo numero di volte e facciamo convert punto to int 32 console punto read line allora con console.read line andiamo a prenderci ciò che l'utente scrive con la tastiera e lo convertiamo in numero intero 32 bit che è esattamente il tipo int perché console.read line ci restituisce una variabile di tipo string di tipo testo che non sarebbe direttamente compatibile con una variabile di tipo intero perché ricordo che ccsharp è un linguaggio tipizzato quindi prima di assegnare il valore lo devo convertire da una stringa a un numero a questo punto sintassi del ciclo for mi faccio aiutare con gli snippet diviso studio code quindi quando c'è questo simboletto faccio un secondo for ci faccio clic sopra ecco ho la sintassi del ciclo for la sintassi del ciclo for di csharp è tipica dei linguaggi c like della famiglia dei linguaggi c e si legge in questa maniera finché la variabile e si legge in questa maniera inizializzo la variabile i a zero e finché i è minore di un certo valore in questo caso vabbè è chiamato lunghezza ma poi la variabile la la decidiamo noi la variabile che ci determina il limite eseguo il blocco di codice alla fine di quando ho esaurito le righe nel blocco di codice incremento di uno la mia variabile andiamo a fare proprio l'esempio con il nostro caso quindi il numero di volte è length ok e andiamo a scrivere console punto right line hello world prima di fare di entrare nei dettagli un attimo di come si legge la riga 12 tipica proprio il ciclo for lo facciamo eseguire .net run così ci assicuriamo che funzioni e poi andiamo un attimo a commentare il cuore di questo esercizio che è la riga 12 benissimo scrivi il numero di volte in cui ripetere hello world facciamo 27 ok andiamo a verificare con un numero più basso se abbiamo gestito bene i contatori e così via perché non ho voglia di contare 27 righe quindi facciamo 3 eccolo qua hello world esattamente 3 volte proviamo con altri casi limite proviamo un attimo con lo 0 non dovremmo vedere alcuna scritta 0 invio e infatti perfetto proviamo anche con un numero negativo giusto per essere ultra sicuri meno 1 e non vediamo alcuna scritta andiamo a commentare riga 12 allora per come si interpreta un ciclo for la prima cosa che che dobbiamo leggere è questa parte qui int i uguale a 0 in questa parte noi andiamo a inizializzare una variabile i che sta per index o indice che è un puntatore che tiene traccia ci aiuta a tenere traccia di quante volte abbiamo già eseguito abbiamo iterato le istruzioni all'interno del blocco di codice quindi partiamo nella stragrande maggioranza dei linguaggi si parte sempre da 0 è una pratica comune partire inizializzare le variabili indici da 0 quindi partiamo e 0 subito dopo quindi la prima cosa che viene fatta e viene fatta una e una sola volta questa inizializzazione non verrà mai più fatta inizializziamo la nostra variabile i a 0 la seconda cosa che viene fatta è chiedersi e qua ci metto il 2 è chiedersi se i è minore di numero di volte quindi verifichiamo questa condizione tra dopo il primo punto e virgola c'è la condizione con cui entriamo all'interno del ciclo quindi i che vale 0 in questo momento è minore di numero di volte e questo sarà quello che ha scelto l'utente e ce lo troveremo all'interno della variabile numero di volte se questa condizione è vera entro all'interno del ciclo fase 3 e eseguo le istruzioni presenti nel blocco di codice quindi in questo caso abbiamo solo il console.writeline hello world una volta che vengono esaurite le istruzioni all'interno del blocco di codice si passa alla fase 4 del ciclo for la fase 4 è l'esecuzione di quello che c'è dopo questo punto e virgola in questo caso abbiamo un i più più i più più si legge come i alla variabile i assegno i più 1 quindi diciamo che al primo giro siamo a 0 più 1 assegno alla variabile i il valore 1 e così via finché la condizione è valida quindi finché i sarà minore al numero di volte continuerò a scrivere hello world e incrementare scrivere hello world e incrementare la mia variabile i finché i non è finché finché è vero che i è minore di numero di volte per rendere più chiaro quello che succede andiamo a scrivere qui i lo mettiamo così ok così vediamo anzi lo mettiamo così che diventa un pochino più elegante ci mettiamo il numeretto parentesi spazio così vediamo quello che succede dot net run scrivi il numero di volte in cui ripetere hello world scrivo 3 alla primo giro la mia variabile i vale 0 perché viene inizializzata a 0 ci domandiamo se 0 è minore di 3 sì quindi eseguo scrivo hello world poi incremento il valore della variabile i che sta a 0 lo incremento di 1 e diventa lo vediamo qui al giro successivo diventa 1 scrivo hello world incremento il valore della variabile che da 1 mi passa a 2 2 è minore di 3 sì quindi scrivo hello world un'altra volta incremento il mio valore della variabile i da 2 faccio più 1 e diventa 3 3 è minore di 3 falso perché 3 è uguale a 3 e quindi esco dal ciclo e non ripeto più bene e anche per questa lezione abbiamo completato abbiamo implementato i 3 cicli più diffusi il ripeti, il while e il for con il linguaggio di programmazione c sharp per consolidare le nostre conoscenze se tramite questa serie di video di programmazione per principianti stai imparando qualcosa oppure ti piacciono metti un like e iscriviti al canale per rimanere sempre attornato sulle ultime uscite ciao 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 ciao